Carrera che di petto con molta calma serve ancora Neumann, buono il servizio del tedesco per Colomba, in attacco Colomba, al centro Mancini e Fiorini, l'intervento di Mancini e il gol splendido di Mancini su servizio di Colomba, al tredicesimo della ripresa, uno splendido servizio di Colomba, sul suggerimento di Neumann in contropiede, Mancini di prima intenzione ha toccato d'esterno e ha mandato la palla, praticamente un gol identico a quello che Mancini è riuscito a fare a Como nella quarta giornata di campionato, quando con un intervento di intelligenza, un tocco di finezza potremmo dire, ha mandato la palla alle spalle dell'estere fa.